Musica 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 Finalina per il terzo e quarto posto in Serie B, si affrontano le squadre di Nonna Toio e i frustrati dell'assente capitano Danilo Prodomo, che salutiamo da Milano, situazione ancora sullo 0-0. Vediamo come la Nonna Toio gestisce i palli, una finale persa in maniera ineluttabile, sicuramente tuttavia molto crocente la semifinale dal momento che la Nonna Toio, che aveva condotto tutto il campionato come prima in classifica, è crollata di fronte ai colpi dei sicuramente meno quotati Paris-San Gennaro. E sappiamo che il calcio, molte volte strano, regala sorprese in continuazione. Prestito Artino. Di là vediamo la coppietta di Rubino, in finale di Serie C. Iniezione Carpino per Stato da Sorgente, Sorgente prova a rubare palla, Peruso fa buona guardia. Peruso ancora torna a Carpino, Carpino affronta Paduano, Carpino prova ad andarsene Carpino, ce la fa, alla fine Sorgente non riesce a tenerla in campo. Carpino ancora per Zinno, Zinno torna a Carpino, lungo linea per Peluso, Mariconda ottimo interviene, ruba palla, Mariconda ancora il non-look a cercare Paduano, Paduano per invece entrare il sinistro di Paduano, la diviazione. Zinno poi la spazza ben meglio, attenzione c'è Peluso, Peluso contro Artina, Peluso mette giù di petto, riesce a tenerla in campo, Peluso alla fine Artina chiude. Quest'anno anche la rimessa laterale, Mariconda lungo a cercare compagno, c'è Zinno l'interdizione di testa, palla fra le brecce di De Angelis, subito alimentata l'azione dei frustrati per Mariconda. Sorgente attaccato da un avversario. Pulizione raga, aspetta, fischio io. Stato il fallo di mano di Peluso. Va Mariconda profondo a cercare, Paduano colpo di testa, palla che si bidà al lato. Si bidà. Si bidà sempre. Carpino, Carpino osserva il piazzamento dei compagni, poi cerca un rasoterra per Peluso al corridoio, alla fine Peluso si allarga a sinistro. Provano ad uscire i frustrati con Maisto che serve a Paduano, l'interdizione di Zinno e poi Mariconda. Ancora per Maisto, attenzione di partenza. Maisto, Parisi, in due tempi riesce a fare la sua. Gioca vicino per Carpino, partono dalle retrovie. I umani in mai arancio. Peluso, Peluso. Non riesce a servire un compagno. Ultima azione prima di interrompere il nostro collegamento. Maisto il cambio di gioco a cercare sorgente, Parisi con i pugni, attenzione ancora. Rischioso questo passaggio, Peluso parte, palla al piede, salta d'uomini. Ancora Peluso. Brivido per De Angelis, la palla di poco alta. Ultimissima azione che seguiamo con De Angelis che tocca per Maisto. Stavolta a discesa, palla al piede del Mancino. Chiamiamo il gioco per Mariconda. Attenzione Mariconda, prova il destro. Diviazione. Sarà calcio d'angolo. Sul punteggio di 0-0. Interrompiamo il nostro collegamento.